...e hanno dimostrato fino all'ultimo di volete perdere un momento. I consiglieri che sanno che in questo momento stiamo affidando la città a quelli che ci hanno portato a disastro di umore. Noi stasera, e mi riferisco a 5 consiglieri dissidenti, che non sono neanche il motivo del loro dissenso, perché per dissentire bisogna stare vicini, venire e motivare politicamente per quale motivo disservano, e non solo sulle spartizioni politiche, sul portone e visibilità, solo questo motivo. Non c'è stato nessun motivo per dire stai sbagliando, per cui per questo motivo io gli scrivo. No, a me voglio questo, voglio questo e voglio questo. La città lo deve sapere, lo saprà. E queste saranno sicuramente persone che non potranno neanche più essere ripromosse alla città. Perché le persone che ogni due anni si presentano e si fiduciano i sindici perché non vengono a poterliare. Secondo me è gente che non vengono a stare a gruppo nevano. Grupo nevano è l'artoriato, è stato l'artoriato dal centro sinistro. I tempi sono una cosa che non si possono cancellare. Ebbene, questi cinque persone, questi cinque personaggi hanno avvallato questo disastro economico del tempo e non hanno neanche il coraggio di venire a dire le motivazioni. Se no, per pura spartizione, incarico, non gli edifici e ne ricidiamo. Non gli edifici e ne ricidiamo. Voi sapete che cosa si dica, ma proprio altro che il demonismo. Cinque anni è il demonismo, altro che il demonismo. E allora io questo è una cosa che la città dovrà sapere e lo saprà, lo saprà subito come comunicare e io gli dico anche a chi deve far sapere queste notizie nel termine più breve possibile. E allora io dico, noi sicuramente ci saremo. Ve lo dico, sicuramente ci saremo. Perché non possiamo permetterci di lasciare la città in mano a persone che ci fanno trovare con tasse, super tasse e tutte queste cose qua. E allora non possiamo stare inerti e inerbili e impassibili o passivi davanti a queste responsabilità di questi personaggi. personaggi che domani mattina, quando si presenteranno su un fatto sportivo, deve essere cacciato fuori dai cittadini. Perché è l'unico che pensa che il fatto sportivo sia un fatto personale, sia un fatto suo. ma deve essere cacciato a cacciato fuori. che allora, mentre per rinnovare, ancora la stima, la fiducia e l'affermi che hanno avuto per te questi consiglieri comunali, io vi ringrazio, io penso che già da voi li ci rivedremo e organizzeremo come dobbiamo difenderci dalle onde barbariche. dalle onde barbariche di senso politico e di senso di dire, di chi ormai ha progettazioni sulla città. E noi non lo vedremo di sindicato, perché questo è un po' il strutto della morale. Il passaggio nella stazione unica più patata è stata la voce che ha fatto provocare il cosiddetto l'asso. C'è risolta, te lo dico, la stazione unica ha dato fastidio. Le gare che ha fatto hanno dato fastidio, quello che si chiedeva una volta ricca, il consiglio comunale. Questo è la stazione che mi ha dato fatto. Silenzio, 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 via. Per favore. Mi trova sintro. Sì, sì. Niente, sì. E allora tutte queste cose che ha dato fastidio, ma stazione unica a portarle. Perché io ho sbagliato anni di là, l'ho detto subito. E già il rivolto anno dopo un anno vuol dire che io avevo accettato le due confesse. Ma perché ero stato, come si dice, suggerito male su queste cose, perché mi fidavo di qualche assessore. Ebbè, mi ero fidato molto male. E allora la stazione unica portante, che è il massimo della trasparenza, ebbè questo non ha fatto piacere a qualcuno. Pensavo di tralanzarlo. Noi queste cose non le prezziamo. Noi di mattina andiamo a lavorare, non viviamo con i soldi del Comune. Questa è la cosa drammatica. Ci sta lì invece, vuole, quindi prendono i soldi del Comune. E questo non lo prendo in te di domani. E quindi io penso già da questi otto consigliere comunali, partirà il gusto per stare veramente insieme. Perché ci crediamo per stare insieme. E la dimostrazione di affetto e di stima la vedo adesso. Chi non sta è perché voleva altre cose. Altre cose. La stazione unica portante ha scominato io qualche cosa. E' andato fastidio. E allora penso che non devo dare altre cose, dire altre cose. Se non dire, penso che il gruppo Levano avrà qualche periodo molto molto meno. E noi dobbiamo essere una barriera contro il ritorno dei vecchi che hanno ordinato questo problema. Quindi questo è l'invito a rivederci da lunedì mattina, da lunedì. E lavoriamo per evitare il valido di Comune. Buonasera al nuovo salone, alla città, ai cittadini e a noi il gruppo è il turmonico. Allora, costantemente l'assenza del numero pregato, chiedo al segretario di primo reatto a privare e dichiaro deserta la seduta. Buonasera. Grazie.